Facente parte del politico di Pisa, la crocifissione di Massaccio, databile 1426, era sul fondo dorato, come opera tardogotica. Ma Massaccio introdusse la prospettiva. Infatti, noi invidiamo Cristo senza collo, ma abbassandoci notiamo il perché. Perché? Perché in realtà l'opera era collocata sopra l'altare e doveva essere vista dal basso verso l'alto.